Beppi Sì Beppi quello che ti dici di certo gli togo tutti i schei ma mi sono chicata i schei ah vediamo chi nel bufetto sotto il telefono ahah Beppi guarda 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 dove c'è il netto Beppi ecco cosa avevo mi Genoepa Genoepa cosa che è? è lo che v'ho dito a mi che qualche dubbio restava fuori è proprio il più importante ma se potrei sapere chi è questo gran personaggio ah indovinalo dai dai che non ho niente un fio di tempo da perdere in sé in piedi anche all'indovinello se non vado a giocare che c'è ricordate che fra mesi ore in sé qua e quando quella gente sente anche lontanamente l'odore delle fugasse non la si fa mai aspettare ma che avemo già superato il numero prefissato 35 ci pensi? ma non so neanche a me dove ci alimenteremo no no cara e il numero tondo di casa tomboyoso è sempre stato il 30 perché in questa casa non è mai stato dispensato il batteso panchetto, caranghello o funerale che non fosse il 30 sia il numero della fortuna mi piace anche con i morti questo numero è il portafortuna ma il manco se che avessi un centino delle dita potrei capire invece nella nostra famiglia se che ha sempre trasmesso solo che debiti e se la verità la pura verità anche se non la te garba le mie quattro parole del discorso ti fa anche il discorso ecco ecco è la solita seppia che ascolta i discorsi degli altri si te dispiace a fare quel discorso eh è il mio omaggio signora mi crede caro commentatore un vero contrattempo fu sa il ritardo del treno eh ma vedo che hanno già preparato tutto quella cerimonia bene bravi complimenti e mi permetta signor commentatore mi permetta signor commentatore che sia io il primo a congraturarmi con lei per la commenta e mi congratulo anche con lei bellissima signora oh a meno che i due vecchi mattini voglia dare prove della sua virtù oh e ne fanno una bella sorpresa con i due maschetti ahah in tempo della pandemia basta un AstraZeneca un Pfizer è una è un viagra è tutto se possibile ahah Tombola 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 Beppi asostraca vago Beppi ricordate i numeri sta là sta là Beppi sta là a